Teoria gender nella Buona Scuola di Renzi. Questo è il tema dell'incontro organizzato dal parroco Pietro Riggi della Chiesa Santa Croce. Il secondo degli incontri in cui i genitori, i nonni e i zii si sono riuniti nei locali della Chiesa per dire no al comma 16 del DDL Buona Scuola, che assicura l'attuazione dei principi delle pari opportunità con la promozione dell'educazione e la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, informando e sensibilizzando gli studenti, i docenti e i genitori. La sessualità dunque diventa materia scolastica, coinvolgendo gli studenti fin dalla tenera età. Numerosi i presenti all'incontro che hanno voluto esprimere il loro disappunto su ciò che il governo Renzi, del prossimo settembre, prevede nei programmi scolastici, a cui si aggiunge l'invito che Padre Riggi ha rivolto loro, e cioè di opporsi a questa legge attraverso una raccolta firma all'ufficio URP del Comune. Noi abbiamo riportato delle testimonianze attraverso dei video, attraverso degli scritti, abbiamo riportato delle testimonianze che questa teoria è vera. Sono venute già una cinquantina di persone, molti erano curiosi di sapere, alcuni erano molto preparati, sono arrivate anche altre notizie. Io non sapevo che in Germania già cinquantatre genitori sono stati arrestati perché non hanno voluto che i figli andassero a scuola a fare queste cose. Questa non è più democrazia. Sotto il velo dell'emocrazia c'è una terribile duttatura. E anche in Italia possiamo dire quale genitore, credento o non credente, di qualsiasi fede, accetterebbe che si facessero queste cose sui propri figli. sono delle cose che non hanno dell'umano. Tanti io riporto quello che le persone dicono, non hanno dell'umano. E per di più questa situazione cerca di infiltrarsi un po' alla chetichella senza far sapere niente agli altri su cose veramente questa buona scuola. C'è anche una campagna di disinformazione, cioè delle persone che dicono non è vero niente. e invece è vero, e invece le prove ci sono. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato uno standard, un progetto di educazione sessuale per l'Europa e questi punti di cui si parlano ritornano.